ciao sono emiliano galli dell'agenzia mobile aerea maxi dal case e oggi mi trovo in via dei monti di pino alle 122 e quello che ti propongo è un box in vendita è un box che ha come abbiamo visto poco fa un primo cancello elettrico su strada un vialetto interno e un altro cancello elettrico per entrare in questo in questo locale dove sono tutti quanti box mi sto percorrendo tutta quanta la strada che vi accompagna direttamente al box quindi gli spazi di manovra sono tutti abbastanza comodi eccolo qui il box un box abbastanza grande perché il lato destro sono 6 metri e 30 circa il lato sinistro sono 5 metri e 13 e l'apertura della bascula eccola qui sono 3 metri e 21 quindi è comodo per ciascun tipo di macchina c'è anche la finestra quindi c'è abbastanza reazione e fatemi sapere se è una cosa che un box che può interessarvi soprattutto se abiti in zona per mettere una macchina sicuramente due macchine una grande una piccola anche o lo scooter la moto e quant'altro e poi c'è questa parte sul retro che i proprietari hanno utilizzato come punto scaffalatura ripostiglio e via dicendo ecco l'altra angolazione per qualsiasi informazione contattatemi senza nessun tipo di problema per vendere casa puoi fare tu le foto mettendoci tutto te stesso ma con un agente remax eccoci come va hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi ciao 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 ciao